La pacchia è finita, signori, perché in questa elezione del Capo dello Stato, nella prossima elezione del Capo dello Stato, il centrodestra ha i numeri per essere determinante e quello che vogliamo noi è un Presidente della Repubblica eletto per fare l'interesse della nazione e non quello del PD e non accetteremo compromessi. Noi vogliamo un patriota al Quirinal. Allora, chi sarà questo patriota a cui si riferisce Giorgia Meloni? Facciamo un rapido giro di ipotesi. Luigi Manconi.